Aspetta, aspetta! Qualcosa di utile? Mi tengo impegnato. Le autorità sono sotto shock per gli eventi della scorsa notte. E in molti sostengono che oramai è solo questione di tempo prima che la situazione ai precipiti. Direi che abbiamo finito qui. Forza, andiamocene. L'ho trovato. Samaritan. Samaritan è morto 25 anni fa. Così dicono. Credi che un supereroe viva davanti a casa tua? Ce l'hai uno psicologo? Ragazzo, Samaritan è morto. Io sono un semplice netto urbino. Samaritan ripulissi le strade. Tu pensa agli affari tuoi e io ai miei. Io non me la bevo! Ti senti bene? Benissimo. Quanto sei forte. Non sono più come una volta. Il declino inizia quando smetti di preoccuparti. E io ho smesso di farlo tanto tempo fa. Perché odi chi sei? Perché per alcuni è troppo tardi per rimediare ai propri errori. Nasconde qualcosa. Lo voglio morto. Davvero? Ciò che metti sotto terra ti perseguiterà. Perché sei sparito? Vecchio! Prova a salvarti. Andiamo! Grazie per la visione!